Quando il tuo intestino è troppo pigro, riequilibra il tuo organismo. Richiedi un campione prova di Royal Regime Tea al tuo farmacista. Royal Regime Tea, l'integratore naturale a base di erbe e privo di caffeina per la giornaliera regolarità dell'intestino e il drenante dei liquidi in eccesso. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria, Royal Regime Tea. Quando la natura è la migliore medicina. Grazie a tutti.